Una certa America intrinsecamente conservatrice e razzista avrebbe voluto hissarlo a bandiera del proprio conformismo. Invece Cassius Clay non gliel'ha consentito. Il campione olimpico del 60 a Roma è diventato campione mondiale ai pesi massimi a 22 anni e ha fatto una scelta di grande coraggio, quella di rinunciare perfino al suo nome per abbracciare la fede islamica. Naturalmente gli è valso l'ostilità di una certa America rigida e conservatrice. Così come un atto di grande coraggio è stato quello di rinunciare alla divisa per la guerra in Viettina ma gli è costato anche la galera e la revoca dei suoi titoli iridati. Ci ha messo tre anni per ottenere la redenzione della Corte Suprema degli Stati Uniti ma intanto era già diventato un'icona della controcultura degli anni 60. Ci sarebbe poi il Mohamed Ali atleta, quello dei grandi match con Joe Frazier della leggendaria sfida con Foreman in Zaire ma di quello si sono già occupati le riviste di settore che lo hanno eletto più o meno unanimamente come il più grande sportivo di tutti i tempi. Basta solo questo per ricordare chi era Mohamed Ali ucciso solo dal morbo di Parkinson.